Roma, 2019. Un giovane tennista italiano affronta per la prima volta un giocatore esperto sul centrale del foro italico. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto quel giorno, fino a ora. Per capire l'impatto di quel match, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Ecco come tutto ha avuto inizio. Oggi vi raccontiamo un episodio straordinario che ha cambiato la percezione del tennis per un giovane prodigio italiano, Yannick Sinner. Sapete cosa è successo quando Steve Johnson, tennista statunitense di grande esperienza, lo ha affrontato per la prima volta a soli 17 anni? La sua reazione è stata incredibile. Mi ritiro dal tennis. Ma perché? Cosa è accaduto su quel campo del foro italico? Restate con noi per scoprire questa storia unica e come un incontro apparentemente insignificante si sia trasformato in un momento storico per Sinner. Iscrivetevi al canale e mettete un like a questo video per non perdere altri racconti incredibili sul mondo dello sport. Yannick Sinner, l'alto atesino dal talento cristallino, ha cominciato la sua scalata nel mondo del tennis con una determinazione feroce. Nel 2019, appena diciassettenne, era già considerato un potenziale fenomeno, ma pochi avrebbero immaginato cosa sarebbe successo a Roma. Il torneo del foro italico era il suo terzo match a livello ATP e le aspettative erano basse. Chi si aspettava che un ragazzino magro e quasi sconosciuto potesse mettere in difficoltà un veterano come Steve Johnson? Analizziamo i primi passi di Sinner e la sua preparazione per il torneo, con il supporto di allenatori visionari che vedevano in lui non solo un tennista promettente, ma un futuro campione. Roma, maggio 2019. Un match di primo turno sul centrale del foro italico vede opposti Steve Johnson, allora numero 59 del mondo, e un giovane Sinner. Johnson, con una carriera solida e diversi titoli ATP alle spalle, non si aspettava nulla di più che una vittoria facile. Ma Sinner aveva altri piani. Con un gioco fatto di precisione, velocità e coraggio, ha dimostrato subito di non essere un avversario qualunque. La partita si è protratta fino al terzo set, con Johnson avanti 5-2 e match point in mano. Eppure, nel momento della verità, Sinner ha tirato fuori una performance epica, vincendo cinque game di fila e completando una rimonta mozzafiato. La vittoria, la prima di Sinner in un Masters 1000, non è passata inosservata. Steve Johnson, abituato a gestire la pressione di tornei internazionali, ha vissuto quella sconfitta come un'umiliazione. Non riuscivo a credere di aver perso contro un diciassettenne, ha confessato. Ho chiamato il mio agente e Ghili ho detto di annullare i prossimi tornei. Mi ritiro dal tennis. La sconfitta non è stata solo un duro colpo al suo ego, ma ha anche messo in discussione la sua intera carriera. Solo il sostegno del suo team e una profonda riflessione lo hanno convinto a non mollare. Ma la cosa più sorprendente, Johnson inizialmente non credeva nel talento di Sinner. Pensavo che non avrebbe mai vinto un altro match a TP, ha detto con ironia anni dopo. Cosa ne pensate di questa storia? Scriveteci nei commenti. Vogliamo sapere la vostra opinione sulla crescita di Yannick Sinner e sull'impatto di quel match sul tennis internazionale. Dopo quel match, Yannick Sinner ha continuato a dimostrare di essere un talento unico. La vittoria a Roma non è stata un caso isolato, si è evoluto rapidamente guadagnandosi un posto tra i migliori del mondo. Nel corso degli anni, Sinner ha conquistato titoli importanti e si è fatto strada nei tornei più prestigiosi, arrivando a competere con i giganti del tennis come Novak Djokovic e Rafael Nadal. Quel momento al foro italico ha segnato l'inizio della sua leggenda. La resilienza mostrata contro Johnson è diventata un tratto distintivo del suo gioco, un mix di forza mentale e capacità di ribaltare situazioni difficili. Steve Johnson, oggi ritirato, guarda indietro a quel match con ammirazione. Sono felice di vedere quanto mi sbagliavo su di lui. È diventato un campione incredibile, ha ammesso. Sinner, d'altra parte, continua a ispirare giovani tennisti in tutto il mondo. Il suo percorso dimostra che il talento da solo non basta. Servono dedizione, umiltà e voglia di imparare da ogni vittoria e sconfitta. Questa storia ci insegna che il talento, combinato con il duro lavoro, può superare qualsiasi aspettativa. Yannick Sinner, da ragazzino terribile come lo definì Johnson, è diventato una delle stelle più luminose del tennis. Penso che il suo percorso sia un esempio straordinario per chiunque voglia eccellere nella vita. Non importa da dove si parte, ma quanto si è disposti a lottare per i propri sogni. Se vi è piaciuta questa storia, iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanella per non perdere altri racconti incredibili. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video su notizie live stream.